Il viareggio Beach Soccer sarà impegnato dal 29 maggio al 4 giugno a Nazareth in Portogallo per la Euro Winners Cup, una specie di Champions League del Beach Soccer. I bianconeri di Stefano Santini dovranno affrontare la compagine belga del Leis Perverts, quella della Moldavia del Diocher Cisinau e la vincitrice del girone preliminare, fra cui c'è anche la formazione tedesca del Rocker Raben che i bianconeri, qualora fosse questa l'avversario, avrebbero già affrontato e superato a Catania nel 2016 con il punteggio di 6 a 3. L'avversario del viareggio Beach Soccer potrebbe uscire però anche dall'otto tra le altre formazioni che sono il Casa Benfica dell'Ordes Portoghese, la formazione russa dello Spartak Mosca e quella greca del Napoli Patron.